Questa è nata, dopo tutte le iniziative che facciamo, è nata anche questa, con l'idea di un nostro bellissimo amico, Marco Sirotti, che lui è uno, lui viene da Trieste, perciò è abituato a fare poi tutti questi trail qui in montagna. Perciò abbiamo cercato poi di farlo anche qui nella Terni, Rieti e Stroncone, e prendere i tre colli, i bellissimi tre colli che ci sono, come Miranda, poi abbiamo Moggio, dopo Moggio abbiamo Cimitelle, e Cimitelle poi per arrivare un'altra volta a Miranda. Perciò fare questo importante, per noi è molto importante questo, perché abbiamo un percorso di 20 chilometri, questo adatto soprattutto a persone che sono molto preparate per questo percorso. Poi abbiamo altri due percorsi, uno di 8 chilometri e 4 chilometri, che possono passeggiare un po' tutti, ecco questo è quanto. Questa iniziativa la stiamo facendo però in collaborazione con la Prologo di Miranda, dove veramente dobbiamo dire veramente grazie a tutti loro che veramente ci stiamo programmando con molto impegno fra tutti.